Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Lies of P Siamo qui, allora, alla grande esposizione di Venigni Come vedete, ok E abbiamo sbloccato la shortcut Che ci conduce sopra Dovrebbe essere di lì a lato Dovrebbe esserci qua O comunque di là Però noi abbiamo modo di evitare tutti quelli Facendo di qua Ma che è il problema Del fatto che questi tornano ogni cazzo di volta Allora, vieni Ole, uno, due e tre Possiamo andare di qua Dai, fa un culo Dai, come fa a prendermi? Io sono in alto Aspetta, io vado ancora su Allora, ci manca La parte quella di là Vieni Finchia Ok Due attacchi legione E sei andato giù Visto Sarò là Ok Però io Da là Allora, abbiamo la shortcut Quella là Che l'abbiamo tirata giù E fin lì Ok Perché là Abbiamo quella shortcut Però a noi serve Andare Non da questa tipa qua Ma A noi serve capire come andare di lì Eh Bel problema Perché se io non ho modo di andare lì dentro Non ho modo di capirlo Perché Io non vedo Non vedo fuori Da qua non posso cadere là Cioè Signori della corte Abbiamo un grosso problema Perché io anche andando qua Eh Vedi Però io non ho Eh Vedi Qual è il mio problema adesso Perché dovrei andare là sopra Devo trovare il modo di andare di là Sopra là dovrei andare Io Ma come faccio Io Dovrei Tira Eh no Dovrei riuscire a salire Ma come vado Perché quelle sono tutte Impalcature Uno alla volta Uno alla volta Mi avete attaccato in due Allora Dammi vedere Ci sarà un modo per arrivare là sopra Però non ho capito che giro devo fare io per arrivare lì Non ho capito che giro Però me ne prendo di danni No, sopra non può salire quello E' rimparata Ah no, ok Sono arrivato qua Sono di qua Sanculo Madonna Dai Sanculo Ma C'è 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 Ok via Questo è andato Quelli di l'edi Il problema è sempre lo stesso Perché io poi da qua non ho modo di proseguire Cioè da qua c'ho solo sta roba io Ah ma guarda ma c'è il Ma porca troia ho visto adesso Quel passaggio lì Ok perfetto l'ho visto Adesso dove devo andare Ok ho fatto un attimo Mente locale e finalmente ho capito dove Dovessi andare Qua Fai da qua Eh no il pagliaccio pazzo no Oh figa il pagliaccio pazzo no Cazzarola Calibro di legione Eh vaffanculo Eh vabbè Minchia tutti Tutti Eh zii Buonanotte Vabbè vi siete attivati in 85 Sì vabbè in 82 poi Non vedo Non vedo Non vedo Non vedo Curati Pinocchio cura Vaffanculo Vabbè ma si sono attivati in 25 Vorrei dire C'è Come cacchio fai Già quei cosi durano Ah dai ma non puoi Allora Adesso che ho sbloccato un calibro di legione Posso andarmi a potenziare il braccio Ma dai ma là Mi aspettano in 82 Come cacchio faccio lì Cioè finché ne devo attaccare uno Ha un senso Cioè devo farli uno alla volta Modifica No ricarica Eh dovrei fare ricarica rapida Eh perché A due me ne servono Fa un culo Ma demonio non ce l'ho Deus Ex Machina non ce l'ho E devo fare questo Crearli non posso Eh no mi serve il connettitore Che non ho Porca troia Ho perso Sei Sei Mila ho perso Cazzo Ma là come cazzo vado Cioè lì non ho modo di Ah no si Ho un modo di andare là Senza Dover affrontare tutti Porca puttana Però E fan culo Sempre un danno me lo fa Però questo Con l'ascia elettrificata Qua però Minchia è bello tosta L'esplorazione di sta zona Vieni E minchia se è tosta qua Non lo fa Non lo fa Porca troia Devo chiamarmi il braccio Allora Perché sono il secondo Minchia No 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 Porca troia Che nervi Che Che ... fallo però sta parte qua è bella impegnativa non so se unirò le due parti perché non so se unirò questo episodio con l'altro così da completare tutta la fase esplorativa di sta parte dai però muoviti a venire qua non so se unirò le due parti d'ora non è qua ma è di là cazzo minchia non era neanche poi tanto alto non so se unirò le due parti ok siamo qua io stavo esplorando sta zona ok finché mi riesca ad affrontare uno alla volta è anche un bene wey aia vaffanculo sono bloccato qua si ma son bloccato qua si ma ti devi spostare ciccio si vabbè si oh ma porca puttana a questo a parte col beyblade oh allora qua quello è meglio che non lo attivo perché no non ce la faccio più perché già distruggerne una non è un casino almeno abbiamo aperto sto cancello oh la qua questi sono tutti gli esperimenti che hanno condotto ecco quella roba la allora lì c'è un telefono rispondiamo al telefono rispondiamo al telefono rispondiamo al telefono la la risposta a questo va a rimanere pensi a questo qualsiasi necessario cosa non può essere usato prima che si tratta un cacolo è un'intrazione vero vero che una cosa falsa ma sicuramente un glimps è un'intrazione che si tratta un'intrazione non puoi solo vedi occhi l'intrazione un'intrazione come te si non è proprio vero la risposta un'intrazione sono raffinati che si tratta e 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 si tratta o pensi che mi puoi mi perché è l'intrazione nooo vabbè non posso più rifarlo vabbè iiiiihihi allora da qua siamo arrivati uuh di la c'è un passaggio cazzo ho sbagliato eh ho capitato anche ai migliori di sbagliare è questo minchia eeeh ashtruns di merda speravo di riuscire a beccarla la cosa che diceva prima di romperlo perchè l'uovo ah cazzo tu l'uovo è vero lo puoi fare sodo senza romperlo ok wei senti questo è un gran rompicoglioni e quindi meriti dov'è il tuo degno compare si vabbè uuh basta tubo affilato ok di qua dove si va? ah sopra minchia minchia oh oh no ma porca troia cazzo cazzo ne di buddha nooo dai cazzo che palle è dover arrivare fino a la però ma devo rifare devo rifare quello la che due coglioni dove rifare questo ogni volta quando eh vabbè fa un culo che c'ha un range eh vabbè fa un culo che c'ha un range se fino a qua sei arrivato ma quando cazzo mai mi raggiungi fino a qua tu ma quando cazzo mai oh dai non è possibile non vieni mai fino a qua non è mai venuto fino a qua questo dai dai non è vero mai non è vero mai non è vero dai mi sto curando vaffanculo non non viene mai fino a qua sto stronzolo dai dimmi che ah ok almeno questo non si è dovuto meno male almeno questo però di arrivare qua con tutte le vite invece eh io ci speravo di oh è attivo di nuovo bravo what a delight you are trying to live a life that is merely a scar ha very well another riddle to ease your suffering a little behold the fingertips of the cold woman at the grand exhibition look closely look closely she might escape your notice she might escape your notice oh non uso questo guardia più forte ah 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 Sono direttamente qua Dopo ho perso i miei ergi Tu mi sei venuto a rincorrere fino a qua Stronzo Ok Connettitore di legione Permette di creare un braccio Meno male Ok Rapporto C'è tutta sta strada per questo Tutta sta fatica per sta roba Io pensavo che Mi portasse da qualche parte Ok allora Non era qui la via Quindi vamo andare di là Che cazzo è l'altro Ah è là questo Non ho più cure Quindi Però mi porti davanti a uno stargazer Allora qua Penso che sia il boss Oh è qua il boss Oh cazzo Eh l'amadoi Madonna Eh cazzarola Questo salta E come cazzo Lo tiro giù Eh vabbè Ma questo salta E vai a cacare Ok Allora Madonna tantissima immacolata Dai era morto Era morto Affanculo Peso da lancio Oh no Abbiamo anche un calibro di legione Grazie a questo Finalmente possiamo andare un pelo avanti Allora Allora Ah Abbiamo sbloccato la shortcut Finalmente L'abbiamo lo stargazer Ok Rifornimenti crat Oh Bella lì E lì Ah E lì che abbiamo il boss Ah Allora facciamo una bella roba Adesso abbiamo sbloccato questa Io direi Torniamo all'hotel Porca miseria Che casino Per sbloccare la shortcut I rifornimenti I rifornimenti Dovrei Farli a lui Aggiungi prodotti Aggiungi prodotti Vediamo Sì Ok Volendina Dai Sì Madonna Madonna Ogni volta sa cosa qua di Antonio Allora acquista Cos'hai di nuovo Uh Quarzo Bene Connettitore Va bene E questo cos'è Potenziatore alchimico C'è la raccrescita di zecchini d'oro Non è che mi interessa tanto Questo mi interessa Questo pure Non hai altro vero No Ok Allora Andiamo Due catalizzatori di legione Crea Posso creare Sì perché ho il connettitore Quindi posso fare Il deus Ex macchina Che mancano solo qua Andemogno cosa fa Uh L'acido Ok E modifico Andiamo Pandemonio Ricarica Rapida Posso Beh combustione Rafforzata Non è male Poi Andiamo Andiamo a mettere Il quarzo La miseria Ma qual'è che l'avevo fatto A migliora Ora Il recupero Della cella D'impulso Qua Sopravvivenza Niente C'è Mentre il numero Massimo D'impulso Questa 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 Grazie a tutti. Allora proviamo ad andare ad affrontare il boss adesso. Voi due. Uno alla volta. E che cazzo. Ruota dentata. Ok. No, questo episodio verrà un po' lungo per via del boss. E dei vari tentativi che ne conseguiranno. Seguiranno per... Che zidi. Allora, lì ci sono degli oggetti. Tutti morti. Appunti del Battista. Vabbè, gli appunti poi me li leggo. Però qua... Non mi pare, a parte questo oggetto per terra, ci sia altro. Ok. Però io la chiave della cosa non l'ho mai vista, però vabbè. Magari me la... Me la dà il boss. Spettro! Vieni con me! Che mi sa che questo... Ci farà sudare. Qua parte? Ehm... Qua parte! Te... Qua parte! Qua parte! Qua parte! Buongiorno al mio cervello! Parla! Questo è l'anno che l'evoluzione diventa vera! Scusami, io sono la victoria! Il campeonato! Allora vediamo Bravo, spettro! Ahia! Oh, spettro, bravo! Oh ma lo fai fare un attacco Caricato Che è Bane di Batman Si non ha ricaricato La vita spero ma ok Ok Aia Bravo Oh 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 Non mi posso curare Dai curati Fanculo la seconda fase Non mi mollava più Però è fattibile Oh merda Non mi mollava più Non mi mollava più Ok E Spettro è ancora vivo, dai Vai Spettro Vai Why be humble I am evolved A better man Come on Come on Come on I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manas, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? I have to admit some surprise. I didn't expect you to be as rational as we are. I'm impressed, even if it's a lie. I'm sorry I underestimated you for being a puppet. You're open-minded enough to hear the truth about the petrification disease. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you used as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the Awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph first-hand. Or, perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting. Not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Marnus, leader of the Alchemists, isn't hospitable. Chiave della Galleria della Santa Misericordia. Ok. Allora, abbiamo l'ergo, sì. Ok. Ok. 12.000 Misericordia sua. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E, alla prossima. Ciao belli.